Balzo degli infortuni sul lavoro che salgono con la crescita degli incidenti tradizionali dopo la ripresa delle attività, oltre che con i contagi Covid, portando all'insù il numero di chi lavorando si fa male o perde la vita. Nei primi sette mesi dell'anno le denunce di infortunio presentate all'Inail sono state 441.451, in aumento del 41,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Di questi, 569 sono casi mortali, in calo del 16% rispetto ad un anno fa. Sono numeri inaccettabili che ci lasciano sempre più sconcertati, commenta la segretaria confederale della UIL, Ivana Veronese, rimarcando la necessità di aumentare la sicurezza sul lavoro e di ridurre fino ad azzerare il numero dei decessi. Il fenomeno riguarda più o meno tutti i settori, dalla sanità alle industrie, dai cantieri ai campi e a tutte le aree del paese. Rispetto all'età, per i casi mortali, gli ultimi dati segnalano un aumento nella fascia 30-44 anni e un calo fra gli over 44. Dei 569 infortuni mortali, in particolare, sono in aumento i casi avvenuti nel tragitto casa-lavoro, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono scesi da 543 a 412.